Benvenuti nel mondo degli orologi Live Watches. Live Watches è un marchio di orologi fondato nel 2014 da Chas e Esti, una coppia di appassionati di orologeria che hanno deciso di creare un marchio che unisse qualità, design e innovazione. Il marchio si è rapidamente guadagnato una reputazione di eccellenza. La qualità dei materiali utilizzati da Live Watches è uno dei punti di forza del marchio. Il marchio utilizza acciaio inossidabile, vetro zaffiro antigraffio e movimenti svizzeri di precisione. Grazie a questi materiali, gli orologi di Live Watches sono resistenti all'acqua, agli urti e al tempo, garantendo una lunga durata. Uno dei modelli più famosi di Live Watches è LGX1A, un orologio che si distingue per il suo design semplice, classico e senza tempo. Ogni segnatempo rappresenta un tesoro che completa ogni guardaroba. Oltre al GX1A, Live Watches offre una vasta gamma di modelli, dai classici orologi da polso agli orologi da pilota e agli orologi da immersione. Il marchio ha anche collaborato con diversi designer e artisti per creare edizioni limitate di orologi esclusivi e di alta gamma. Tra le collaborazioni più famose di Live Watches, si segnala quella con il designer Jonathan Ferré, che ha creato l'orologio Rebel AR, un modello con un design unico e innovativo, caratterizzato da strisce colorate che rendono omaggio ai giorni delle corse automobilistiche classiche. Live Watches si è distinto anche per la sua attenzione al design distintivo e all'innovazione. Il marchio ha infatti creato orologi con un design unico e innovativo, che si distinguono per la loro originalità e per la loro capacità di catturare l'attenzione. Gli orologi di Live Watches sono realizzati con cura e attenzione al dettaglio. Il marchio Live Watches è già consolidato nel settore dell'orologeria di alta qualità, grazie alla sua capacità di coniugare, design e innovazione. Gli orologi Live Watches sono un'ottima scelta per chi cerca un prodotto resistente e dal design unico e innovativo. Grazie a tutti.